buona giornata amici da massimo foghetti bentornati alla nostra rassegna stampa oggi è sabato 5 febbraio 2022 il sole sorge alle 7 e 20 tramonta oggi pomeriggio alle 17 e 24 vediamo subito qual è il santo del giorno vediamo che un santo importante soprattutto per la sicilia sant'agata 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 nacque nel terzo secolo a catania fu una santa fin da giovinetta perché condusse una vita esemplare fu desiderata tentata da quinziano che era pretore di sicilia ma al rifiuto di lei la perseguitò come cristiana fu arrestata e torturata ebbene le torture di cui fu oggetto sant'agata sono veramente delle cose indicibili perché se ne tentarono di tutti i colori addirittura le furono strappate anche le mammelle e fu stesa sul letto di carboni ordenti ma non morì soffri tanto finché imprigionata di nuovo di nuovo rese la sua anima a dio oggi a catania si celebra con grande concorso di popolo la memoria di questa sua santa che è la santa patrona appunto della città siciliana vediamo ora le previsioni del tempo sulle marche il tempo si sta rannuvolando una blanda instabilità sulla nostra regione con cieli grigi e piovigini sparse per buona parte del giorno le temperature massime in generale sono in calo sulle coste il vento spira da ovest nord ovest sull'interno debole da nord nord est iniziamo la rassegna stampa a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo come l'attenzione del giornale si accentua soprattutto sulla questione politica e sui rapporti di forze all'interno della maggioranza consigliare il partito democratico più forza non poltrone ma se ritiene fanesi come vice sindaco incontro sulle deleghe della dora riferisce l'esito il sindaco non commenta insomma c'è stato questo incontro tra una delegazione del partito democratico e il sindaco massimo seri a cui viene invitato un rinnovamento un ricambio di giunta però il sindaco non ha alcuna intenzione sembra almeno quanto dicono i giornali questa mattina di togliere la carica di vice sindaco a cristian fanesi come invece richiede la componente maggioritaria all'interno del partito democratico una questione un braccio di ferro che è ancora dura comunque vediamo nella foto qui i due protagonisti di questa vicenda ovvero Renato Claudio Minardi che è un po' l'interprete della forza di maggioranza che ha vinto il congresso all'interno del partito democratico e il sindaco massimo seri che si trova un po' nell'impasse tra le esigenze di condurre una buona attività amministrativa e le richieste politiche invece del partito di maggioranza della sua coalizione vediamo ai problemi amministrativi nuovo palasport c'è la variante a chiaruccia tuttavia l'opera resta al palo perché senza progetto se non si troveranno i fondi e servono molti molti soldi per realizzare questa nuova struttura di cui Fano però ha una stretta necessità in quanto il palasport Salvatore Allende non è più sufficiente per le sue esigenze diventa poco più di una grande palestra possiamo definirla così serve invece un contenitore non certo come l'astronave di Pesaro ma un contenitore più adeguato ad una città di 60.000 abitanti insomma che possa almeno contenere 2-3.000 forse anche 4.000 persone vediamo le altre pagine ASET e questa è una pagina dedicata tutta alla questione dell'ASET vedete come la politica con il rimpasto di giunta e la questione dei rapporti tra ASET e Marche Multiservizi tengono banco da molti giorni sui giornali sui quotidiani vediamo oggi cosa dice il Corriere Adriatico ASET nel frittacarne della politica i sindacati spingono per la fusione c'è una presa di posizione dei sindacati CGL, CISL, Will che invitano appunto l'ASET ma l'amministrazione comunale di Fano a prepararsi per gli appuntamenti delle prossime gare gas, acqua, rifiuti. ASET da sola si crede non riuscirà a spuntarla per quanto riguarda la gestione di questi servizi. Poi abbiamo anche i dubbi di Galasso un componente del consiglio direttivo di ASET e l'anomonia delle dossier che è uscito fuori appunto in questi ultimi giorni un dossier elaborato da Marche Multiservizi nella previsione di una fusione con ASET SPA. C'è stata una fuga di dati, l'ASET stessa vuole saperne di più, lo studio del settembre 2019 è un documento che scotta anche perché l'ASET vuole sapere se c'è stata una fuga di notizie e prendere dunque i relativi provvedimenti. Passiamo a notizie più liete, più così, più leggere, anche se poi incidono sulla nostra economia come le manifestazioni e gli eventi che vengono organizzati sul fronte del turismo con l'intento evidente di attirare sempre più vacanzieri nella nostra città. Nonostante il virus siamo pronti, lo ha detto all'assessore al turismo Etienne Lucarelli ieri nel presentare l'anteprima eventi, un calendario che elenca le principali manifestazioni che si svolgeranno nel 2022 nella città di Fano. Ebbene si comincia ad aprile, alla fine d'aprile con una manifestazione del jazz per poi proseguire durante l'anno. Ci sono dei ritorni come la Colle Maratone che quest'anno dovrebbe svolgersi, l'anno scorso invece è stata annullata e su questo articolo vediamo tutti gli eventi più importanti che si svolgeranno. Purtroppo non si svolgerà il Carnevale a febbraio, la sfilata dei Carri è stata spostata nel giorno di Ferragosto, ci sarà anche alcuni giorni precedenti, nella zona di Sassonia come l'anno scorso. Abbiamo poi altri eventi importanti, ovviamente il Festival Passaggi, il Festival Fanojet by DC, sono ormai eventi consolidati nella nostra città, come l'incontro internazionale polifonico città di Fano, Sapori e Romi d'autunno, Natale più, adesso sono arrivato addirittura alla fine dell'anno ma tra aprile e dicembre sono tante manifestazioni che accontentano un po' tutti i gusti. C'è anche una presa di posizione del direttore della Caritas Fusaro per quanto riguarda la situazione dei senza tetto a Fano, sono circa un centinaio, pensate le persone che a Fano non hanno una casa e sono costrette a dormire dove capita, insomma una situazione che deve essere posta alla ribalta e che spesso viene sottaciuta, insomma non ci si fa caso, magari si vede un lenzuolo, una coperta abbandonata sotto un portico, però è una cosa ormai che non fa più sensazione, dovrebbe farla perché dietro quel lenzuolo, dietro quella coperta c'è un dramma che una persona vive tutti i giorni. A Fossombrone il patrimonio archeologico è un tesoro da promuovere con nuove iniziative, un'area archeologica di grande interesse, l'antica Fanum Semproni. La consigliera Maria Silvia Nocelli annuncia aperture straordinarie del parco ed eventi culturali che si fanno, che si organizzano all'interno di essi. Quanti fanesi, quanti cittadini della provincia di Peso Rubino ma anche di fuori provincia hanno visitato l'area archeologica di Forum Semproni, pochi a dir la verità. È un'area che meriterebbe un interesse più accentuato, anche perché si evidenzia, come del resto su Asa e altre aree ecologiche del nostro territorio, abbiamo la bellissima Casa del Mito di Sant'Angelo, abbiamo tante altre emergenze romane del nostro territorio, specialmente lungo la Flaminia, che meriterebbero di essere valorizzate, un tesoro che dà ancora più forza alla nostra attrazione turistica. Ebbene, un programma di visite guidate finalmente faciliterà anche la visita di questa area Fossombrone. Fondi per la strada di Monterolo, il Comune di Pergola applaude alla Regione. Soddisfatta la Giunta Comunale per i 200.000 euro stanziati. Si darà seguito al ripristino di questa strada che è stata appunto, diciamo così, interessata da un movimento franoso che ha interessato appunto la provinciale 94. Vediamo anche la pagina di Senigallia, dove si parla ancora del processo di Corinaldo. La Commissione di Vigilanza ha sbagliato nessun attenuante, subito le condanne. Lo chiedono i familiari di Mattia Orlando ed Emma Fabini, morti alla Lanterna Azzurra. Chiedono soprattutto giustizia. Non accettano attenuanti, per quanto accaduto, i familiari delle vittime infastiditi da alcuni tentativi di sminuire le responsabilità della Commissione di Vigilanza a cui hanno assistito in Tribunale giovedì scorso. In particolare Giuseppe Orlandi e Fazio Fabini, che nel magazzino agricolo adibito a discoteca, pensate un magazzino agricolo adibito a discoteca, hanno perso rispettivamente il figlio Mattia e la figlia Emma, li ritengono alquanto discutibili. La legge non ammette ignoranza, ha detto Giuseppe Orlandi. La Commissione di Vigilanza, nell'ottobre del 2017, ha commesso un grave errore a firmare l'autorizzazione per lo svolgersi di quella manifestazione. Era come una bomba ad orologeria, ha dichiarato. Vediamo ora la pagina di Pesaro sul Corriere Adriatico. Si parla di lavori pubblici. Via Cialdini, la sfida pista ciclabile senza tagliare i posti auto. Si allunga la bicipolitana di Pesaro. A primavera partiranno i lavori per il primo stralcio della ciclabile di Via Fratti e poi interventi di collegamento anche nei quartieri di Celletta, Villa San Martino e Tombaccia tra le varie piste ciclabili. Dunque una rete che si ricongiunge. La Regione Marche e i comuni di Pesaro e Gabicci sono coinvolti nella ciclabile Gabicce-Colombarone, che rientra all'interno della ciclovia adriatica delle Marche. Mentre nel tratto più a sud, cioè quello che va da Pontesasso a Fano, si cerca di completare questo tratto ancora mancante, a Pesaro si procede ancora più verso nord. Bus rimodulare le corse su richiesta dei quartieri. L'amministrazione comunale vuole incontrare il direttore Benedetti per avviare un confronto con Adriabus. Nel dettaglio si cerca di rendere accettabili le istanze dei quartieri. Si chiede per esempio il ripristino o la giunta di corse il sabato e la domenica per quanto riguarda il collegamento tra la città e i quartieri periferici. Laddove è possibile, non appena la situazione della pandemia lo permetterà, occorre appunto incrementare le corse per rendere più agevoli i collegamenti. Carta Famiglia 270 avranno i primi aiuti, ma puntiamo a 800. Carta Famiglia è un documento che attesta la possibilità di ricevere un sostegno, un aiuto. L'assessore Pandolfi ha presentato l'iniziativa a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà. Potranno ottenere sconti su prodotti e servizi offerti da aziende e professionisti. Dunque un aiuto perché in questo momento si trova in una situazione difficile. Tant'è che sono stati consegnati 600 chili di cibi alle persone seguite dal Centro Aiuto per la Vita di Pesaro che ha la sua sede in via Gian Santi. In tutto si tratta di 18 pacchi di alimentari che sono stati offerti dalla Col di Retti, insomma dei prodotti copio di cibo, quelli che servono appunto per sbarcare il Lunario tutti i giorni. E in questo articolo si parla invece di scogliere. Levante e Sottomonte, lavori doppi, il Comune mettere mano al litorale non appena sarà conosciuto l'esito del bando regionale per rinforzare le scogliere. Qui abbiamo delle dichiarazioni dell'assessore Pozzi. Scogliere da Levante a Sottomonte siamo alla fase decisiva, ha dichiarato. Veniamo alcune notizie di cronaca al Tribunale. La Colf, vediamo c'è un caso che riguarda la Colf che ha sottratto i gioielli di famiglia. Dovrebbe risarcire il maltolto ma l'oro è già stato fuso. I proprietari avevano denunciato alla Polizia una serie di continui ammanchi per una cifra considerevole, 30 mila euro. Una collaboratrice domestica infedele ora a processo per avere rubato i gioielli della famiglia di cui era impiegata. E poi abbiamo una dichiarazione appunto di un parente, di una delle vittime del Covid. Mio padre, 89 anni, morto solo in ospedale. Il dolore della figlia, la mia testimonianza, un gesto in sua memoria. Insomma anche ieri abbiamo riportato il caso di una persona che ha visto il suo parente, il suo papà, morire in solitudine senza poter a meno stringere la mano in un momento decisivo appunto della sua esistenza. I giovani reclamano più voci e spazi lanciando il consiglio degli under 35. Primo incontro conoscitivo tra le varie realtà nei prossimi giorni si stilerà una bozza di regolarmento per quanto riguarda il consiglio dei giovani. Una istituzione rappresentativa dei giovani under 35 il cui scopo è quello di fungere da collante tra i vari movimenti e le associazioni perché non siano voci isolate. Sempre più i giovani diventano protagonisti della vita sociale della propria città. Passiamo a Vallefoglia. Cultura, turismo, lavori e ambiente. Due comuni per un'unica strategia. La doppia firma di questa convenzione tra il sindaco Palmiro Ucchielli e il sindaco Cinzia Ferri. Insomma lei sindaco di Montelabate e lui di Vallefoglia. Ecco cosa c'è dentro l'accordo sottoscritto appunto tra i due comuni e qui abbiamo un articolo appunto che riguarda il senso di questa collaborazione. A Urbino la quadrilatero ha sospeso tutto. Priorità all'apertura della guinza. Progetto a due corsie, Topi, Luzzi e Sacchi sposano le parole dell'ex amministratore Marchetti. E sembra veramente che la cosa più importante a questo punto sia l'apertura del traforo della guinza. E poi il problema delle quattro o delle due corsie passerebbe in secondo ordine, ovvero serve procedere in fretta. Apertura, completamento della Fano Grosseto in prima istanza. Poi il resto verrà di conseguenza e verrà dopo. L'apertura dunque sulla guinza. Sulla pagina di Fano del resto del Carlino si riprende il discorso dell'Aset e di Marche Multiservizi. I sindacati chiedono collaborazione uguale lavoro. Soprattutto CGL, Cislewil, nell'ultimo incontro con il sindaco non si può partecipare da soli alle gare di gas, acqua e igiene ambientale. Necessario fare attenzione perché sia garantita la salvaguardia occupazionale. Un mare di eventi per tornare alla normalità. Una stagione all'insegna della storia, della cultura, della musica, dell'enogastronomia ma anche di festa. Sono questi l'insieme, questo l'insieme di eventi, di manifestazioni che fanno organizza sia per trattenere i turisti nella nostra città, sia per attirarli, sia per dare anche ai propri concittadini occasioni di svago. E di svago ce ne sarebbe tanto bisogno in questo periodo di tristezza, di melanconia che è scaturito dal Covid. E poi vediamo l'articolo sulla crisi della maggioranza consigliare a Fano. maggioranza in crisi, cambio delle deleghe rinviato. Della Dora, che è il segretario del partito, Giacomoni e Minardi, esponenti della maggioranza, ribadito che il partito è pienamente legittimato dall'esito di un congresso. Forti dei voti ottenuti cercano di cambiare la situazione per quanto riguarda la composizione di giunta. Piazza Marcolini, Legambiente, boccia il progetto. Ci sono poche variazioni che ha ottenuto il progetto di arredo di Piazzale Marcolini. Gli alberi saranno abbattuti e quindi gli ambientalisti sono insoddisfatti anche di questa variazione del progetto che la giunta ha presentato. Vediamo come il resto del calino ha dato più spazio alle prese di posizione del direttore Fusaro, che è il direttore della Caritas Fanese, per quanto riguarda il senza tetto. Vediamo qui un accampamento, si può dire, di come una persona passa la notte, in queste notti molto molto fredde, all'aperto, con alcune coperte, alcuni stracci, insomma, è una cosa veramente indicibile. La Caritas lancia l'allarme abitativo, è abbastanza grave che nel 2022 non ci sia nel nostro territorio una pronta accoglienza. Desideriamo invitare il territorio e le sue componenti sociali ad attivarsi tramite il centro di ascolto. Sono stati individuati anche 79 fanesi con alloggi di fortuna. Insomma, un articolo su cui riflettere. Guardia Medica a Mondavio, un mese nero, solo pochissimi turni a Mondavio, ne saranno coperti solo 10 su 36. Da fine ottobre segnalati i primi di servizi, ma poi sono gradualmente aumentati. Comunque non sono ancora sufficienti. Ad Urbino invece il Sindaco Gambini promette di rimuovere la grua a Santa Lucia. Sarà rimossa, ha detto, entro quest'anno. Il Sindaco non la vuole per le celebrazioni dell'anniversario di Federico. Ci sono lavori da finire, ora promettono di toglierla. Capisco le difficoltà delle imprese, ha detto il primo cittadino, ma se non si dovessero decidere farò un'ordinanza di sgombero addirittura. Mentre l'assessore regionale Stefano Aguzzi interviene sulla apertura della strada del Furlo. Firmato il protocollo per il cantiere. Lavori pubblici, il caso della strada chiusa, per il pericolo di frane. L'assessore regionale dice entro febbraio si insedierà la ditta e quindi i lavori saranno compiuti. E poi qui l'articolo che riguarda il parco archeologico di Fossombrone, che diventerà più fruibile. Comune, Università di Urbino e sopraintendenza sono sulla stessa linea. Forum Sembroni sarà sempre più oggetto di iniziative. E uno degli obiettivi è quello di permettere una visita più libera, più facile dell'area archeologica e conoscere l'antica città romana, così come era dislocata nella piana di San Martino. Oltre ai tour guidati si potranno fare anche rappresentazioni teatrali all'interno appunto dell'area archeologica, dove è ben chiaro il tracciato dell'antica Flaminia, di cui sono stati portati alla luce i basoli. E poi vediamo ridatici il semaforo a pian di Meleto, protesta di due consiglieri comunali. L'incrocio è pericoloso e si tratta dell'incrocio stradale di corso Giovanni XXIII. Vediamo anche cosa dice il resto del calino per quanto riguarda la pagina di Pesaro. Qui si parla di sanità. Il primario di medicina di Marche Nord, Gabriele Frausini, dice che il Covid adesso ha cambiato marcia, ormai è diventato come un'influenza. Gabriele Frausini, appunto, dato che è in prima linea dal 2020, dal marzo 2020, cioè da quando è apparsa la pandemia anche nel nostro territorio, ora chiede una svolta. Non dobbiamo smaltellare, dice, ma basta anche con i tamponi agli asintomatici, altrimenti diventa una caccia alle streghe. Lui stesso è stato così intaccato dall'omicron, un virus che per fortuna attacca soltanto le alte vie respiratorie, senza scendere ai polmoni. Insomma, anche lui ha avuto una tracheite, ma nulla di più. In pratica gli si è abbassata la voce per due o tre giorni. Insomma, un problema non grave, così come per tante altre persone. Comunque dice che il cambio è necessario, validata pari dignità alle altre patologie. Noi lo stiamo facendo, ma serve una decisione nazionale, perché altrimenti di fronte alla pandemia, di fronte al Covid, le altre patologie sono state lasciate in diversi casi in secondo ordine. Novax, cacciato dal medico, ecco le scuse. interviene l'azienda sanitaria Marche Nord a chiarire la situazione delle pratiche mediche non prestate a un non vaccinato. Morti senza i familiari accanto, meno restrizioni nei riparti, Marche Nord risponde alla pesarese che protestava per non essere stata vicina, per non aver potuto essere stata vicina al padre nel momento in cui quest'ultimo è deceduto e quindi è deceduto in totale solitudine. È una questione veramente di sensibilità che uno dovrebbe provvedere. Maturità sale la protesta. Noi penalizzati dalla DAD sono scesi in strada ieri gli studenti degli istituti superiori, sia di Pesaro che di Fano. Qui vediamo due articoli che il resto del Carlino pubblica questa mattina. Questo per quanto riguarda Pesaro, questo per quanto riguarda Fano. A Fano sono scesi in strada i ragazzi del liceo scientifico Torelli e del classico Nolfi. Manifestazioni anche a Fano, ma quale normalità? Siamo ancora in piena pandemia e ripristinare gli esami come se nulla fosse. Dopo che molte lezioni vengono così fatte in DAD non è certo agevole per gli studenti. Sale dunque la protesta. Noi penalizzati dalla didattica a distanza al campo la manifestazione degli studenti in vista dell'esame di Stato. Per quanto riguarda Fano avremo ancora altre manifestazioni nei prossimi giorni. E poi vediamo qui una ditta pesarese che si è messa in luce, proprio il caso di dirlo, al Festival di Sanremo. Perché hanno acceso l'Ariston con 800 proiettori. Si tratta della Sound Delight di Villa Fastigi, protagonista per il terzo anno di fila della Kermesse Sanremese. Un traguardo incredibile. Qui non si può sbagliare nulla, ovviamente non si può sbagliare nulla. Comunque una foto così bellissima dell'astronave di Sanremo tutta piena di luci, di colori, insomma di effetti avveniristici fatti appunto creati dall'azienda pesarese. Quindi per dimostrare la creatività appunto della nostra provincia. E poi vediamo qui invece un articolo che riguarda le famiglie più disagiate. Lotta al caro vita con la carta famiglia. Sconti e egevolazioni per chi ha almeno tre figli. Siamo in conclusione, siamo sabato, quindi diamo un'occhiata anche allo sport. I giornali questa mattina parlano diffusamente dell'apertura dei giochi olimpici invernali di Pechino. Ma noi però fermiamo la nostra attenzione con le squadre di casa. La Vispesaro non è ancora grande ma se vuole può diventarlo. L'allenatore Banchini parla così alla vigilia della insidiosa partita con la Viterbese. Bisogna costruire meglio quando ci pressano. Insomma una iniezione di fiducia per quanto riguarda i biancorossi. Invece per quanto riguarda il Fano, adesso la squadra pensa a Johan Thijan. Si tratta di un difensore centrale in uscita dall'Aurora Alto Casertano dove ha giocato 13 partite prima dell'infortunio. Con il mercato aperto fino al 10 febbraio per le trattative tra società di Serie D un'ulteriore fortata pausa dettata dal rinvio della gara di campionato. Domani contro il Castelnuovo Vomano il Fano lavora in più direzioni sul campo e fuori soprattutto per rinforzare il suo asset di gara. E per il basket WL Cremona è un pericolo all'italiana Carpegna Prosciutto ospita domani una delle squadre che la tallona. Quindi è una specie di derby anche se è una squadra a distanza a due punti di differenza meno condizionata delle altre dal blocco degli stranieri. E qui noi ci fermiamo. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento alle 7 di lunedì prossimo e questa sera per le notizie del giorno a occhio alla notizia di Fano TV. A risentirci, buona giornata.